Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Krixx e oggi ragazzi sono qui tornato incredibilmente signori miei su GTA 5 online E oggi ragazzi sono qui ancora una volta per portarvi un nuovissimo money glitch In cui ragazzi vi mostrerò come appunto poter fare soldi infiniti grazie a questo nuovissimo glitch In veramente ragazzi pochissimo tempo quindi mi raccomando è un glitch veramente efficace E cercate ragazzi di sfruttarlo al massimo il prima possibile Prima che appunto Krixx è arrivata a pacciare anche questo glitch Prima di iniziare ragazzi ovviamente vi invito a lasciare il vostro mitico bel pollicione in su ragazzi Che mi aiuta veramente tantissimo Cerchiamo ragazzi di arrivare a 100 like anche per questo fantastico glitch In quanto ragazzi se arriveremo a 100 like entro 24 ore Io cercherò appunto di portarvi un nuovissimo money glitch Comunque metodo per fare soldi come volete chiamarlo Ancora più efficiente di questo qui che appunto sarà in grado di potervi far fruttare veramente tantissimi soldi Quindi mi raccomando ragazzi cerchiamo di arrivare a 100 like entro 24 ore come promesso Ed io ragazzi se appunto arriveremo a 100 like entro 24 ore Io appunto cercherò di portarvi il prima possibile questo nuovissimo money glitch Oltre appunto al metodo di oggi che vi andrò a presentare Ultima cosa ragazzi prima ancora di iniziare con il video Vi invito a seguirmi nel mio canale di Telegram Mi raccomando ragazzi se avete l'applicazione di Telegram entrate tutti quanti nel mio canale Perché Telegram è il social principale che vado a utilizzare quando comunque sia escono nuovi contenuti O c'è qualcosa da importante da postare Quindi mi raccomando ragazzi troverete il link del mio canale Telegram in descrizione Quindi appunto se avete l'applicazione di Telegram aprite la descrizione e tornate nel mio canale Detto questo ragazzi direi che possiamo anche iniziare con il video Visto che appunto quello che avevo da dirvi ve l'ho detto Quindi per fare questo glitch avrete bisogno di alcuni requisiti E ovviamente ragazzi il requisito principale è avere un hangar con officina Quindi mi raccomando ragazzi se non avete un hangar con officina Acquistate appunto hangar e officina E all'interno ragazzi dell'hangar dovrete semplicemente mettere un veicolo che volete duplicare Quindi in questo caso io andrò a utilizzare il bombusca Ma appunto voi potete inserire un qualsiasi velivolo che volete appunto per duplicare e far soldi E oltre appunto a questi tre requisiti dovrete aver bisogno ragazzi anche di una LG RH8 Messa non importa dove Se avete garage dell'ufficio va bene Se avete appartamento va bene Se avete garage va bene L'importante è che appunto ossediate ecco un appartamento con garage O comunque sia garage Dove all'interno dovrà esserci una LG RH8 E mi raccomando ragazzi dovremo soltanto utilizzare una LG Perché appunto dovremo fare soltanto una duplicazione In quanto se andremo a duplicare ulteriori velivoli praticamente le copie dei velivoli non ce la farà vendere Quindi potrevo soltanto vendere diciamo i veicoli o meglio i velivoli come dire originali ecco Quelli no fake Quindi è inutile ragazzi star lì a duplicarsi molti più velivoli quando alla fin fine poi ne potete vendere soltanto uno Detto questo ragazzi iniziamo subito con il video Allora la prima cosa da fare ragazzi è andare in GTA Online in una sessione solo ad invito Quindi una volta fatto ciò dovrete semplicemente ragazzi portare la vostra LG RH8 Che in questo caso vi servirà per fare il glitch appunto dove c'è l'hangar Quindi una volta che sarete arrivati semplicemente davanti al vostro hangar Dovete prendere un esplosivo RPG bomba adesiva quella che volete E dovete ragazzi far esplodere praticamente la LG RH8 Come appunto l'ho fatto io in questo momento nel video Una volta ragazzi che avrete distrutto la LG RH8 Praticamente dovrete distruggere soltanto questo veicolo Quindi se avete per esempio altri veicoli distrutti richiamateli tutti quanti Perché appunto dovrà servirvi soltanto uno slot quando andrete a chiamare l'assicurazione Morse Mutual Infatti va ragazzi per chi non lo sapesse questo qui è un nuovissimo metodo per far soldi Quindi la Morse Mutual servirà ma cambia veramente di pochissimo dall'ultimo glitch Quindi semplicemente ragazzi una volta che avete distrutto la LG RH8 Dovrete entrare all'interno del vostro hangar Quindi una volta ragazzi che sarete all'interno del vostro hangar dovete semplicemente salire sull'aereo Che in questo caso state andando a duplicare come vi ho già detto prima Io appunto sto utilizzando il Bombusca Quindi semplicemente una volta che avrete il vostro aereo dovete salire all'interno Quindi una volta ragazzi che sarete all'interno dell'aereo dovete semplicemente alzare il telefono Andare sui contatti andare su Morse Mutual E semplicemente ragazzi una volta che sarete chiamato la Morse Mutual Praticamente quando andrete a chiamare e il telefono o meglio il gioco farà il primo dream Quindi diciamo la prima bussata ecco prima che questi qui della Morse Mutual rispondono Voi semplicemente ragazzi dovete chiamare la Morse Mutual E non appena sentirete il primo beep Quindi vuol dire che il telefono sta bussando appunto Il primo beep che sta bussando Voi ragazzi dovete semplicemente uscire dall'hangar tenendo premuto appunto R2 E una volta che sarete ci sarà la schermata nera che sta bussando fuori dall'hangar Dovete semplicemente spammare X quindi il tasto X Quindi semplicemente appunto alzate il telefono andare sui contatti chiamatela Morse Mutual E una volta ragazzi che sentirete il primo dream dovete semplicemente premere R2 Quindi spammare il tasto X Semplicemente ragazzi una volta fatto ciò spawnerete praticamente fuori dal vostro hangar E se avete fatto tutto correttamente praticamente sentirete gli operatori della Morse Mutual Che appunto vi risponderanno e che vi avranno tolto i soldi che appunto dovevate pagare per la LG RH8 Quindi se appunto come avete visto dal video quando uscirete fuori dall'hangar Vedrete che praticamente il gioco vi starà togliendo i soldi e la Morse Mutual avrà risposto Vuol dire nella maggior parte dei casi che il glitch ha funzionato A questo punto ragazzi assicuratevi di a questo punto di rientrare nell'hangar Per vedere se effettivamente la duplicazione avrà avuto effetto Come vedete ragazzi dal video la duplicazione è uscita correttamente Quindi a questo punto ci basterà semplicemente ragazzi entrare all'interno dell'aereo Che abbiamo utilizzato inizialmente per appunto fare il glitch E quindi semplicemente una volta che saremo all'interno dell'aereo Dovevo premere freccia destra Quindi entrare all'interno dell'officina E a questo punto una volta che saremo dentro l'officina Dovremo semplicemente ragazzi andare a vendere l'aereo Potete fare questo glitch con tutti i tipi di velivoli che volete E io appunto consiglio comunque sia i velivoli più costosi Perché appunto sono quelli che alla fine fanno fruttare più soldi Quindi mi raccomando ragazzi cercate di utilizzare al massimo questo glitch Prima che appunto Rockstar vada appunto a pacciare anche questo glitch bomba Detto questo ragazzi nulla Qua da Clicks è tutto Io direi ragazzi che per questo piccolo e breve video può essere tutto Io ragazzi spero abbia ad apprezzato Vi invito a lasciare un like Mi raccomando ragazzi cerchiamo di arrivare a 100 like Come prestabilito per un nuovissimo money glitch E niente io ragazzi vi invito a seguirmi su Telegram, Instagram e Facebook Di cui troverete il link nella descrizione di questo video Quindi mi raccomando ragazzi Se avete Telegram abite la descrizione ed entrate nel mio canale Perché è veramente molto importante E detto questo ragazzi nulla Io appunto vi invito a lasciare 100 like Per supportarmi e per farmi vedere che volete altri money glitch E quindi non volete restare senza i soldi dello zio Peppe E detto questo ragazzi nulla Io spero abbia ad apprezzato Qua da Clicks è tutto Io vi saluto e vi ringrazio ragazzi Ovviamente noi ci becchiamo al prossimo video Bella vai Io Grazie a tutti